Un 4-0 che non ammette repliche, conferma la forza di questa squadra? Assolutamente no, volevo precisare una cosa che sia importante, in queste partite io non sto seguendo la squadra per i miei motivi personali e quindi diciamo che grande merito va a Katia Ferrari che è il mio vice, che sta facendo un ottimo lavoro è una ragazza in gamba, un allenatore molto preparato, una persona con cui abbiamo giocato e fatto grandi cose nel calcio femminile quindi diciamo le ragazze sono seguite in maniera perfetta da questo allenatore, io sto seguendo il gruppo dall'esterno ma assolutamente con la voglia di vederle vincitrici in questo campionato, anche perché in sostanza è stato fatto tanto dieci mesi di durissimo lavoro e credo che sia giusto coronare tutto con un successo per la nostra regione. E spero torniamo alla domanda, un 4-0 che non ammette repliche, questo CF Sud Alto Adige ha recuperato forza, vigore e condizione? Assolutamente, ha vissuto un periodo negativo e dopo essere partito diciamo ha sprombattuto quindi ha fatto un inizio di campionato stupendo, risultati eclatanti il 10-1, il 7-1 dopo c'è stato un periodo di crisi nelle quali abbiamo perso purtroppo 8 punti nel giro di 5 partite adesso le cose sembrano sistemate e questi risultati ritornano ad essere risultati che questa formazione è in grado di mettere in campo quindi gli auspici per uno scontro diretto con il Frutta Più ci sono tutti, sono ottimi auspici le ragazze forse hanno ritrovato quell'agonismo che forse era mancato forse hanno capito che quella sicurezza che avevamo con gli 8 punti in realtà era una sicurezza fasulla come avevamo parlato già in questi studi qualche mese fa. Vero avete dedicato la vittoria di ieri al mister? No, la vittoria l'abbiamo dedicato a noi stesse A voi stesse? Sono un po' egoiste le ragazze, mister Ma è giusto così nel senso che mister e ragazze devono essere due entità abbastanza distanti e questo forse è l'errore che molto spesso si fa nel calcio femminile amici delle ragazze e non va bene il calcio femminile è qualcosa di estremamente professionale dove le ragazze devono lavorare, il mister deve fare il proprio lavoro, deve avere la propria mentalità e le ragazze devono avere la propria testa e questa è la cosa più importante. Mister, una domanda che mi ha sempre preso sia voi che ovviamente anche l'attuale di calcio i maschietti sono praticamente alle soglie di un confronto quasi secco si giocheranno, andate e ritorno su Tirol, dei maschi, la permanenza in Serie C2 vi giocherete una partita secca, la promozione in Serie A2 come si preparano questi eventi dal punto di vista tecnico? Innanzitutto sono due eventi comunque abbastanza diversi proprio perché da una parte c'è una retrocessione dall'altra parte invece c'è una promozione a livello emotivo una promozione deve dare sicuramente qualcosa in più nel senso la squadra deve essere molto caricata perché realmente si può fare la storia di questa società arrivare in A2 è un qualcosa di estremamente buono la preparazione comunque non deve cambiare moltissimo da quella che è la preparazione normale deve essere ragazze che sono molto motivate e forse un motivatore in questo periodo tra l'altro c'è anche il motivatore all'interno della nostra squadra deve essere la persona giusta e che insieme al gruppo riescono a dare grandi stimoli non credo che un allenamento diverso un allenamento in più possano dare qualcosa in più attualmente è solo una questione di testa e credo che la testa sia molto importante per noi come per i nostri avversari ma tu molto probabilmente l'hai notato già prima questo calo perché essendo tu al di là del condottiero ma sei veramente il padre di queste ragazze quindi sai che conosci ogni espressione anche morfologica, labiale, una inclinatura del viso quando è che hai percepito che molto probabilmente le ragazze stanno un po' mollando? Il calo c'è stato subito dopo la partita contro il Vicenza la prima del ritorno 7-1 che mi ha spaventato molto perché il Vicenza tra l'altro nell'andata era stata la prima partita che facevamo e siamo riusciti a fare un pareggio all'ultimo minuto e lì ho visto un qualcosa che non iniziava a funzionare perché effettivamente ci siamo trovati un po' meno all'allenamento abbiamo visto qualcuno magari che questo 7-1 ha dato un po' di sensazioni di siamo veramente forti in realtà io ho parlato anche nelle ultime partite di una mentalità che non c'era da parte delle ragazze però bisogna anche capire che sono ragazze che vengono da alcune campionati di Serie C dove non sono abituate a determinate situazioni quindi anche trovarsi in una situazione perfetta più 8 punti sembra tutto a posto probabilmente è anche naturale che ci sia un attimino di rilassamento da parte mia c'è stata una presa invece di posizione perché capivo esattamente quello che stava succedendo e l'avevo detto appunto anche in questa trasmissione e questa presa di posizione ha dato sicuramente anche le riscompense all'interno dello spogliatoio quindi questa situazione è stata una situazione anche il mio tra virgolette momentaneo allontanamento una situazione che ha portato anche un po' di tranquillità abituato a fare come l'anno scorso un campionato di Serie A dove in realtà non si può stare tranquilli un attimo perché lì serve massima professionalità la parte ludica in realtà in campionati sempre più importanti come la 2 e la A deve trovare meno spazio deve esserci più uno spazio professionale mister domenica c'è l'atto conclusivo di questa stagione affrontate Verona che tipo di partita ti aspetti molto tattica oppure spettacolare in realtà no secondo me non sarà una partita molto tattica perché il tatticismo quando la mente non è lucida è difficile poterlo mettere in campo secondo me sarà una partita molto dura molto determinata vincerà la squadra che metterà più cuore in campo quindi come capito non ho detto più fisico ma più cuore, più mentalità, più voglia di vincere perché la voglia di vincere soprattutto nel mondo femminile fa fare quel miracolo che alcune squadre sono riuscite a fare io mi auguro che anche questa sia la squadra giusta che capisca che col cuore si vince col fisico si può vincere ma il cuore dà qualcosa in più secondo me la partita va vinta sul campo il ripescaggio è qualcosa che non ha secondo me senso nel mondo sportivo nel senso ci sta perché c'è una normativa che lo prevede però penso che se c'è il progetto da parte di questa società di andare in Serie A non bisogna sperare come dice il Presidente in un ripescaggio la partita va giocata va giocata alla grande e va vinta questo è il concetto quindi i ripescaggi vanno bene per le squadre senza ambizione io penso che le nostre ragazze siano in grado di andare in campo e vincerla questa partita e non hanno bisogno di nessun aiuto da parte sulle disgrazie degli altri perché alla fine è questo concetto Bene, queste tue parole sono sacrosanti